Talbullismo e alciberbullismo, Nesta in prima linea e oggi siamo al Giordani di Caserta per una dimostrazione di che cosa si possa fare per combattere questo fenomeno. Dottoressa Borrelli. Sì, noi in realtà questo progetto lo abbiamo scritto e pensato già nel 2019, ci siamo accordati, ci siamo incontrati con Ifel Campania, abbiamo presentato questo progetto che si chiama Innesti di Teatro, che ha appunto dal nome capiamo che è la volontà di innestare, di trasmettere ai giovani studenti di tutte le scuole della regione Campania. Infatti è un progetto capillare che oggi dà una sua dimostrazione qui al Giordani, ma che in realtà si trova in diversi istituti, sia secondari di primo o di secondo grado, di tutta la regione Campania, quindi coinvolgendo tutte le province. Quindi la volontà di innestare attraverso il teatro, appunto di risvegliare delle coscienze, di innestare delle riflessioni. La bellezza e il teatro diventano un mezzo e non l'obiettivo finale per sviluppare, accarezzare le coscienze dei ragazzi. E il tema di questa prima parte del progetto, di questo primo progetto pilota, è stato proprio il bullismo, il cyberbullismo, che è sicuramente una tematica importantissima nelle scuole che dal 2019 ad oggi è addirittura diventata un'emergenza. Noi abbiamo dovuto, come dire, rallentare a causa del Covid la realizzazione di questo progetto. Ci siamo ritrovati, proprio dopo il Covid, ancora di più a sentire l'emergenza di questa tematica. La particolarità del progetto è che il teatro, appunto, diventa un mezzo attraverso una tecnica molto particolare, che si chiama Teatro Forum, che è una tecnica, appunto, che utilizza il teatro per creare delle situazioni da mettere in scena, ma che, insomma, hanno la possibilità, appunto, di vari sviluppi. E gli stessi sviluppi, i ragazzi, poi, dopo, li rimettono in scena proprio per sentire che cosa spinge a fare un'azione o che cosa si sente quando la si subisce. Questo è un po', diciamo, il tema principale del progetto. Quindi, teatro come mezzo per sviluppare, per sensibilizzare, per far comprendere che cosa c'è alla base di certi meccanismi che portano poi a certe emergenze, come il bullismo. Ecco, come mai la scelta del Giordani? Giordani è... Vabbè, intanto, la prima parte dei laboratori l'abbiamo fatti soprattutto in istituti secondari di primo grado, quindi scuole medie e, pensando a Caserta, invece, volevamo ragazzi un pochino più grandi e abbiamo trovato, appunto, il Giordani che ci ha accolto in una maniera molto... Abbiamo fatto già un primo laboratorio a maggio, abbiamo fatto un secondo laboratorio adesso e adesso stiamo facendo la seconda linea, quindi la prima linea di sensibilizzazione e la seconda linea, appunto, di messa in scena, nel senso che quello che i ragazzi hanno lavorato attraverso la tecnica, oggi verrà, diciamo, presentato proprio per fare in modo che la tecnica del Teatro Forum arrivi anche ad un pubblico altro, che non sia solo quello dei ragazzi all'interno delle quattro mure dell'aula, ma anche a altri ragazzi dell'istituto, ai docenti.